La Guardia di Finanza di Salerno ha donato ai vigili del fuoco 1.500 litri di gasolio. Il carburante era stato sequestrato da una società salernitana di trasporti, a seguito di un'articolata attività effettuata dai finanzieri nel settore delle Accise. A disporre il provvedimento di confisca e di destinazione è stato il Tribunale di Salerno. Il gasolio sarà impiegato per autotrazione, ma anche per movimentare i mezzi operativi di soccorso del 115, oltre ovviamente ad essere utilizzato nelle attività di assistenza e di aiuto, nell'ambito dei propri compiti a tutela della collettività. Tra gli obiettivi strategici della Guardia di Finanza, dicono le fiamme gialle, spicca la lotta alle frodi nel campo dei prodotti energetici, che oltre a tutelare le entrate dello Stato, rappresentano una garanzia per tutta la popolazione. La donazione del gasolio da parte della Guardia di Finanza è un atto tangibile a tutela della collettività, che contribuisce, anche attraverso un breve momento di consegna, a consolidare i rapporti con le altre istituzioni.